Ah, siamo tornati per discutere di una situazione veramente importante. E perché ti dico che è importante? Perché mentre, mentre, mentre tutti parlano, mentre tutti si agitano, mentre tutti si toccano, insomma, lì, 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 qualcuno dietro. E vi sto parlando di qualcuno che abita lontano. Va bene? Perché dalla, voglio dire, stampa una notizia che può cambiare tutto. Perché può cambiare tutto? Perché dovrebbe cambiare tutto? Perché, attenzione a quello che vi sto dicendo, c'è un'idea veramente incredibile che proviene dall'Arabia Saudita. Un'idea straordinaria che potrebbe cambiare tutto. E vi spiego un po' il perché. Dall'Arabia Saudita si vocifera che il governo saudita voglia organizzare una lega internazionale organizzata nel loro paese. Ma, con calma, adesso vi spiego perché ne stiamo parlando e per quale motivo c'entra, c'entriamo noi, c'entra la Juve, c'entrano tutti, praticamente. Adesso, piano piano, noi ne discutiamo, ne parliamo perché ci sono veramente tante cose da dire e vi devo far capire delle cose. Perché voi non immaginate che c'è sta casino là. Piano piano, ne parliamo tutti insieme. Va bene, ragazzi, veramente molto importante. E, ovviamente, ragazzi, cosa dovete far? Semplice. Iscrizione. Like. Campanellina. Ragazzi, importantissimo. Sapete già la situazione qual è. Iscrizione. Ripeto, iscriversi. Like. Il like. E la campanellina. Ragazzi, sta cosa è la campanellina. Se non attivate le notifiche, non vi arrivano i video e se vi va potete ovviamente anche seguirmi sui vari. Quindi, mi raccomando, la campanellina delle notifiche è importantissima e seguite i miei social. Allora, due anni fa, quando noi eravamo qui e parlavamo di calcio, io dicevo, ragazzi, vedete che la UEFA così rovinerà il mondo. Perché la UEFA, con questo atteggiamento nei confronti della Juve e di altre squadre, che vogliono organizzare una lega europea di livello, eccetera, eccetera, alternativa a quelle attuali, questo atteggiamento di continua, questo atteggiamento rovinerà. Perché il mondo andrà verso i soldi, si regherà verso la nuova capacità calcistica che proviene dal Medio Oriente e quindi proviene dalla rabbia. Sapete che il campionato arabo ultimamente ha speso miliardi, letteralmente, ha costruito delle formazioni, c'è un'attenzione, eccetera, eccetera. Bene, l'ultima idea del governo è quella di creare una lega internazionale e invitare i principali club al mondo a disputarla. Piccolo problema, il disputare questa cosa si fa solo in Arabia, cioè tu per giocare le partite ti devi regare solo in Arabia Saudita, non si possono giocare partite, diciamo che sia no, se devi andare alle fasi finali del torneo si giocheranno tutte in Arabia Saudita. Ogni anno, quindi è una lega che ogni anno si farà come una lega, un campionato normale, solo che si gioca tutto in Arabia Saudita. Quindi c'è stanno partite in K, tutto in Arabia, si gioca in Arabia. Ora, c'è un problema perché la UEFA dice, attenzione, perché voi non potete andare in Arabia Saudita a giocare le partite. Perché se voi andate in Arabia Saudita a giocare le partite, voi create problemi con le partite normali. Perché giustamente, allora, noi non è che abitiamo qui vicino, dall'Europa, l'Arabia Saudita, il volo è abbastanza, se non sbaglio, insomma, è consistente, c'è un clima diverso, ci sono problemi che possono portare a degli sfasamenti. Non è che io posso fare avanti e indietro Italia, Arabia o Europa, Arabia, perché se no, impazziscono. Devi andare comunque in campo per le partite di tutti i giorni. Quindi si può creare un problema tra le cose. Ma, giustamente, i club dicono, ma a noi che ci frega? Perché se ho l'opportunità di guadagnare molto di più andando a giocare una competizione in Arabia Saudita, io preferisco andare a giocare in Arabia Saudita. Quindi in Arabia Saudita schiero i migliori giocatori. E nelle competizioni europee, invece, schiero i giocatori minori, quelli che non servono, quelli che non hanno niente a che vedere con la titolarità. E la UEFA questa cosa non ci sta, perché dice, no, no, voi dovete in Europa far vedere i vostri campioni, dovete schierare i giocatori che avete sempre schierato, dovete dare, eccetera, eccetera. E' quello che dicevo tanto tempo fa. E' inutile che la UEFA va contro la Juve. La Juve, in un modo o nell'altro, colpirà la UEFA. Il calcio colpirà la UEFA. Perché? L'idea di una lega europea, non internazionale, è stata portata anni fa qui. Abbiamo detto tante volte, ragazzi, il calcio sta cambiando. Vedi che tante cose che noi abbiamo detto, abbiamo detto, abbiamo confessato, abbiamo elencato, vedi che tante cose di questo tipo, tante cose di questo tipo cambiano. Perché la gente sta cominciando a scocciarsi. Vedi sempre le stesse partite, di di sempre le stesse cose, di di sempre le stesse cose. Però i club non ce la fanno. Quindi i club vanno dove si guadagna di più. La UEFA fa, no, non ti preoccupare, voi volete solo il male, no, la lega europea non si può fare, vergogna, eccetera, eccetera. Adesso la fanno gli arabi. Adesso la fanno gli arabi. Internazionale. Internazionale. Quindi mi vedranno tutto il mondo. Adesso la fanno gli arabi. Perché gli arabi sono abbastanza intelligenti. Cosa dobbiamo fare? Vediamo un po' che cosa dobbiamo fare. Ragazzi, ragazzi, ragazzi. Io sono demoralizzato al cento per cento con sta gente. Perché io dico quanto puoi essere proprio, sei proprio ignorante, come l'ha visto le capre. Tu sei il più ignorante delle capre. Voi siete della UEFA più ignoranti delle capre. Voi le capre, in confronto a voi, voi siete più ignoranti delle capre. La vita di un club, la vita di una società europea, la vita di una competizione non si può strutturare su due cose dette così a caso e messe là senza cambiare. Voi ancora non avete capito una cosa molto molto semplice. L'attuale competizione europea di livello che la UEFA propone, le attuali, perché sono più di una, non sono apprezzate. È utile che vi fate mettere dentro la Champions, l'Europa League. Sono competizioni che diventano viste dopo, nella parte finale. Perché la parte relativa all'inizio delle competizioni non se la fila più nessuno. Lo vogliamo capire? Perché la gente non vuole guardare partite fra club che hanno categorie diverse. La gente vuole guardare partite fra club che hanno le stesse categorie. Vuole vedere il big match, vuole vedere le grandi squadre lottare. Non vuole vedere partite che già se sapi, io tanto che me l'avete affatto, tanto già sa che quello vince. E poi me l'avete risultato, ha vinto, eh, tanto me l'avete vederli ai là, ma non me la vedo tutta la partita, vedo solo il gol. E questo è, invece, se tu organizzassi una competizione dove si sfidano i grandi club sempre, dove tutti gli anni ci stanno le grandi sfide fra i grandi club con i campioni che vanno a sfidarsi, eccetera, eccetera, tu ci avresti un altro tipo di atteggiamento. Invece no, qui non si tocca niente. E adesso la fanno loro. Adesso la fanno loro. Potevamo diventare noi ricchi in Europa, avere l'opportunità di avere... Loro no, loro dicono giusto. Allora, perché se non la fanno loro, la facciamo noi. E la faranno loro. Va bene, la faranno loro. E noi porteremo i nostri giocatori in Arabia. E andremo a giocare sempre in Arabia, poi torneremo qua e qua ci giocheranno i ragazzini. Perché lì ci giocano i titolari. E qua ci giocheranno i ragazzini. Questo è il discorso. Eh, ma solo la rica europea organizzata da noi, però, non si poteva dire, non si poteva farla, amica. La competizione nuova? No, non si poteva farla. Ma vi rendete conto... Vi rendete conto dell'inadeguatezza di sta gente, ragazzi? Ma sta gente, ma chi è? Sta gente qui per farla veramente. Cioè, ma voi state a far davvero? Questa è gente che non ha senso. Boh, rimango senza un pensiero. Cioè, non c'è una logica in tutto quello che leggo. Oh, qui la vita della UEFA è sempre quella. Boh, una organizzazione che anziché pensare al bene del calcio europeo sta pensando, sta pensando a danneggiare i propri... a colpire, a denunciare i propri club. Boh, io faccio fatica, ragazzi. Io non riesco a capire davvero. Io non so... Che ti devo dire, sinceramente, parlando? Io non lo so che problema c'ha l'idea. Io non so veramente che problema c'ha sta gente. Non riesco a capire il discorso quale sia. Non c'è una logica, non c'è un'idea, non c'è una... Loro continuano a credere che la UEFA sia pulita. Cioè, che la UEFA non abbia problemi. Che la UEFA sia a posto. Tanto a loro non interessa niente. A loro non interessa niente. E sempre lì siamo sempre al solito discorso. E no, perché la lega europea? No, perché se no i club... La UEFA deve andare... La UEFA non serve. A che cosa sei? Tu mi dividi attualmente a che sei? Cosa dobbiamo fare? Io voglio sapere cosa dobbiamo fare con la UEFA. Forza, mi dovete spiegare di che cosa si sta parlando con la UEFA. Perché se voi mi riuscite a spiegare sta cosa, io al tuo punto mi sto zitto. Voi mi dovete spiegare come fa una società, un'organizzazione così grande, così ad essere così... Cioè, non avere proprio l'idee. Non avere proprio la capacità, da un punto di vista puramente mentale, di dire facciamo questa cosa. Sanno pensate solo alle altre cose. Il calcio europeo finisce come il calcio, quello che è una volta, come l'impero romano finiamo noi. Noi finiremo come l'impero romano. Andremo a cadere sempre di più fino a estinguerci. Questo è. Perché lo vedi? Loro fanno le cose. E noi no. Perché lo... Perché? Perché questa cosa? Alt. Perché questa cosa? Alt. Perché? Perché loro hanno la testa e noi non ce l'abbiamo. Perché noi appena diciamo mezza parola, vuoi fare no? No. Vendetevi conto? Vendetevi conto di tutto questo? Poi mi venite a dire se è normale sta cosa oppure no. Cioè se per voi questa situazione è normale, io da sto punto di vista alzo le mani e dico è normale. Voi non mi devi venire a dire che sia tutto... cioè non mi devi venire a rimproverare. Perché guarda, la situazione è questa. Voi rendete conto di tutto ciò? Vi rendete conto di tutto ciò? Avete la più pallida idea della situazione che si è creata all'interno della Juve? Boh. Io non riesco a capire sinceramente parlando di questa cosa qui. Detto questo, fatemi sapere un pochino voi nei commenti cosa ne pensate. Perché io sto fuori e non riesco a capire. Non riesco proprio a discutere sinceramente. Allora.